Musica Ciao ragazzi qui l'Alex bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi probabilmente con il finale del let's play su Resident Evil 5 Qui con me c'è il grande inimitabile e unico No ma è un mob's game Vabbè va bene allora siamo pronti immediatamente ragazzi e andiamo verso il finale mio dio Ok senza un video senza niente Senza un cacchio ok perfetto Dannato Wes che era proprio l'intenzione di distruggere l'intero pianeta Ci vuole Goku qua ragazzi per sapere la situazione Allora Leggita Ok adesso Di qua Perfetto Ragazzi siamo Sì una nave Ci siamo riforniti di Come si Di spray medici perché Ce ne sarà bisogno e tanto anche Ok ragazzi godiamoci il filmato An assault bomber When Jill said Wesker was planning to spread Uderboros throughout the world He's planning to use this to spread it Wesker There he is Come on let's go Jill Are you alright? I'm fine Don't worry about me Just listen carefully there's something I need to tell you Wesker's superhuman strength It comes from a virus But the virus is unstable In order to maintain a balance He must inject himself regularly With a serum So if he cut the supply of serum He loses his strength Affirmative But he just took a dose So it's gonna be a while Before he needs another one Damn Listen Exxella said that the amount administered Has to be precise So if he injects too much It should act like a poison I think she used a serum labeled PG67AW PG67AW I'm going to try to find a way to escape You need to find that serum Exxella always kept it with her And in that taché cake Jill Come in Jill Shit Chris This is it Let's give it a shot So Detta in maniera semplice Cos'era? Doviamo a tre Wesker Sì Dobbiamo iniettargli qualcosa là A lui Ok C'è un armi incredibile Da che parte dove andare? Di qua Ho sicuro che è di qua Alexander Attenzione Il levato incendio di una sola macchina Ah oddio Qua mi sa che è da fare tutto di corsa Se mi ricordo bene C'è il tempo No Non è vero Che figa sta canzone sottofondo Boom Qua è di Metal Gear Eh sembra Teren 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 C'è una piantina Non la posso prendere Peccato Eh nemmeno io Ho due spray tanto Ma no 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 Ma porca Dove sei? Qua Cioè raga ho sprecato già gli spray eh No per dirvi Ci sono due leve qua Vabbè me li ricompro dopo Quanti cacchio di zombie ci sono qua sotto Eh volevo vedere là sopra se c'era qualcosa Bro di importante Magari qualche spray Ma sto infame Ma guarda tu sto figlio di Ma vai affanno il culo va Un'altra erba Posso combinarla C'è qualcosa da sopra di utile? Granata e l'azoto Niente di che Eh buone minchia Non ce l'hai lancia granata Ah no non ce l'hai No Erba rossa Vai bro vieni qua ad aprire le leve va Sì Beh Poi ci sono Cazzo C'è Lo spray medico Vengo a prenderlo io Ah l'ho preso tu ok Ah Eccoli là dove sei Stronzo di merda Ma guarda sti infami di merda Ma sono proprio degli infami Guarda tu Dove una leve Ma a farti fottere Arrivo Aspetta che qua ci sono ne... Ok vai vai Ah Apertura della paratia primaria Tena distanza Ok Andiamo ragazzi Veloce come la luce proprio Ah no il cacchio si deve aprire Oh c'è l'insetto Ah Oh no Ecco qua Oddio mio Via da qua La magnum la magnum Ce ne sono due Ce ne sono due No mi ha preso Ah Ah Mi ha ucciso Chris Che brutta fine ragazzi Eh Oh Ah Chris Oddio Ma va Altro che magnum Ma è impossibile Ma in effetti mi sa che bisogna usarla qua Ma qua ci sono le torrette Perché non è La sei venuta a usarla Ah davvero Guarda Sto sparando Ah non l'avevo vista Cazzarola C'è un'altra parte C'è Grande Ok vieni Aia Uh Vabbè ho ancora Quattro colpi della magnum Ne ho usati quattro per uccidere quello là Oh In quattro colpi ragazzi Si fanno fuori Glit Tattici Tattici Ok Perfetto Forse siamo arrivati Tattici Quattro colpi Scalar Quattro colpi Quattro colpi Quattro colpi Oh, oh, oh. ogni giorno, gli uomini arrivano un step più vicino a la sua destrazione. Non mi destruo il mondo, mi salvamento. Questo è un uomo! this may be our only chance do it things are real getting interesting now, eh chris do you actually think you can defeat me either way i'm not gonna stop until i'm dead well then i'll just have to kill you quickly No, c'entra il vulcano E dopo andiamo sul vulcano Questa è la pre È la pre-boss fight finale Dobbiamo iniettargli quel cacchio di siero Perché c'è un missile in mano? Perché Mi sa che ci troviamo anche Il bazooka qua da qualche parte Tu trova il bazooka in alto da qualche parte Io te lo distrago Ah, eccolo dov'è, è qua Dove? Qua dove sono io Preso Tu distraimelo, per favore Madonna Oh, madonna Vieni Oh Oh Ce l'hai tu? Oh Cosa? Lui, è da te? Ma, è corso di armona Oh, madonna Quindi cosa dobbiamo fare? Cioè quando prende il razzo, esplode E trattengo Eh sì Ed è quando tratteni In teoria mi dovrebbe dare l'opzione Che vengo là E Devo infelizzare la siringa Ok, ma perso Fermo Togliti Vai, sparagli Cazzo Merda Vai Yes Ce l'ho fatta Did it work? I think so This isn't over, Chris. Shiva, he's getting away, hurry. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wesker, ti fai troppe pippi mentali, perché noi ti fermeremo. Non ci ha sparato. Minchia in testa l'ho preso Ah Merda vai vai Grande Boom Ancora siringa Di sorte diventerà Sei solo un vile scagno sull'ombrella Copri-mi, copri-mi Vai Yes Ciao, Wesker No, apure tu Oh mio Dio No, sei grappato a te Sì, c'è un calciolo adesso Ah, ma si ricorda di Jill No Grandissimi Eccolo Che ti ho detto io Tiri la Wesker e la lava I due verrete con me Boom, bitch Mamma mia Ecco Nella lava, madonna santa Chissà che è caldo Porco cane Wesker indaga gli effetti della Wawa Ok Ragazzi siamo al finale Un bel like Perché adesso ci sarà la boss fight più difficile del gioco Poi più difficile Io ho scelerato per farla una volta Perché l'oro ci dà che non serve a niente Sì, in effetti c'è tutto oro Ando io Ok Come siamo messi a munizioni Di merda No, non l'ho caricato, cacchierola I should've killed you years ago Cres Your mistake It's over, Wesker Over I'm just getting started Time to die, Cres Scappa, scappa, corri Ah, sparali, sparali No, corri, di correre No Tu devi correre, eh Non ti fermare Ok, l'ho preso L'ho preso tantissimo Andiamo a fare il tornado Perfetto Dai Ok Ce l'ha davanti Ce l'ha davanti Quindi uso la magnum Ok Ok Tre colpi di magnum Al cuore li ho dati Ora Tento Ma vieni lì Dove ce l'ha davanti Dove ce l'ha dietro? Dove ce l'ha dietro? Sì Dove andare dietro No Non ce l'ha più dietro Ok, l'ho preso L'ho beccato Si può interagire Attento, attento No No, non si può interagire Però devi spararli Dai Ce l'ha davanti Uso il bazooka No, cosa sta a fare? C'è la ma Più di così C'è una Cazzo Magari Ho dato una bazookata Al cuore Cioè Gli dovrei aver tolto Un bordello di vita No Che è successo? Aspetta Ti curo Vieni qua Ce l'ho anch'io Ok Bravo Oh merda Preso Togliti Togliti Ok Qualcosa là Un diamante Come si fa a prendere? Non ne ho idea Breccia Preso 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 Ok Tre colpi gli ho dati Mi Mi rimane Yes Ok Mi rimane Trenta colpi di mitra Più o meno E D 36 colpi di mitra 10 di pompa Poi Poi più niente Vai beccalo dietro Se ci riesci Ah Preso Quindi questo No Scappa 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 Ok Adora che sto sudando Giuro C'ho le maniche Sono acqua praticamente Non sono più umani Dovebbe essere davanti Il cuore Preso Sì Oh Morto Grazie a Dio Grazie a Dio Sì Usu Sì 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 Chris! Chris! Hang on! Chris! Sheva! Use those! Ok Ready partner? Locked and loaded! Suck on this Wesker! Time's up you son of a bitch! Bro! L'ho premuti eh! Io li ho premuti ragazzi! Io avevo il joystick posato sul letto! No ci dobbiamo rifare tutto t'ammazzo! No no! Ah ecco! Stavolta premili! No no no! No E' over Yes Finally More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for For a future without fear Yeah, it's worth it Ragazzi Abbiamo finito Resident Evil 5 Mamma mia ragazzi Un altro let's play Che si conclude Mamma mia Quindi raga Io faccio un ringraziamento a tutti voi A chi ha seguito la serie Ringrazio anche MoxGamer per la cooperativa Yes Poi chissà potrebbe arrivare anche il 6 Un giorno Beh niente ce lo impedisce ragazzi Quindi Grazie a tutti Grazie a Mox Noi ci si becca sul canale Con i prossimi video E che dire Iscrivetevi e commentate Lasciate un bel pollice Nell'insù per questo finale Stratosferico E noi raga Ci vediamo Al prossimo video Ciao Bella Ciao 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 Grazie.